un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere dalle sue occhiaie che stanno facendo provincia ed eccoci cioè è una giornata pienissima sono arrivato tardissimo sto registrando questo video all'una e mezza però non potevo non fare questo video di Godzilla so che alcuni di voi si aspettavano di Landog ma come ho detto nella pagina fan slitta ulteriormente perché diciamo che supera da destra Godzilla come video quindi portate ancora pazienza per Landog perché perché appunto sono stato invitato assieme al buon Matioschi a vedere un'anteprima stampa del film in quel di Roma all'interno degli studi Warner in una sala appunto una piccola saletta adibita a queste proiezioni in anteprima molto piccolina ma comunque potentissima con un 3d spettacolare uno dei pochi 3d che non mi ha dato fastidio mal di testa e con un audio ancora più spettacolare un audio chiamato Atmos che mi dicono essere superiore al 7.1 presente solo in tre sale d'Italia quindi massimo rispetto e ci sono andato oltre che col signor Matioschi anche con alcuni di voi perché appunto nella pagina fan c'è stata data la possibilità di estendere l'invito a chi ci seguiva alcuni di voi appunto hanno risposto all'appello e c'eravate anche voi quindi mi fa piacere salutare nello specifico Valerio, Francesco, Elisabetta, Giulia, Veronica e il suo amico di cui non mi ricordo il nome chiedo scusa veramente tantissimo e Brummino che mi ha spaventato al Napoli Comicon vestito da Bullo di Bulli questa volta invece da Banda Bassotti e mi ha regalato due disegni in realtà una per il signor Yotobi sono un po' stroppicciati questa vignetta di me con uno zombie di The Walking Dead Walking Dead la serie tv e qua il signor Yotobi che fa il signor Yotobi insomma mettiamola così un grazie mille al Brummino veramente grazie di cuore e ho avuto anche l'onore di conoscere in quelle della proiezione il dottor Carlo Freccero che è stato tra le altre cose direttore di Rai 4 e quindi anche lui artefice in parte della fama italiana di Breaking Bad visto che è stato trasmesso proprio su Rai 4 appunto di cui parte ne faceva Bryan Cranston e quindi mi è piaciuto tra virgolette interloquire con lui comunque sia questa mia recensione a differenza delle altre che hanno una parte di spoiler è una parte che non è di spoiler e già dall'inizio spoiler sin da subito mi dispiace per chi non ha ancora visto il film però assolutamente assolutamente c'è un motivo per cui è spoiler sin da subito ma è spoiler anche quel motivo lì quindi da adesso in poi 3, 2, 1 si parla di argomenti inerenti alla trama del film quindi chi da adesso sta seguendo è consapevole che gli viene bruciato il film se lo deve ancora vedere ok? ok dunque dicevamo allora il film questa recensione è già spoiler sin da subito perché oltre a quello che c'è nel trailer e c'è poco e niente questo film ha 3 poteri mutanti il primo potere mutante è di essere perfettamente riassumibile dal suo trailer cioè vi basta veramente il trailer e dettaglierò questa spiegazione motivo numero 2 ha il potere mutante di riuscire a deludere più tipologie di fan contemporaneamente cioè chi è andato a vedere il film per un motivo è deluso chi è andato a vederlo per un altro motivo è sempre deluso ed è il film che in un bivio tra la scelta giusta e la scelta sbagliata fa sempre la scelta sbagliata ma proprio sempre 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 e adesso vi vado a motivare allora mi è stato detto che tante cose che io ritenevo delle aberrazioni di questo film invece sono degli stilemi classici del genere a cui appartiene questo film che è il genere dei film kaiju credo di cui io non sono un fan quindi ci sono delle cose che ho detto no dai non è possibile nel 2014 mettere queste bambinerie e invece mi è stato detto che sono tipiche del genere e quindi i fan classici li apprezzeranno e io sono contentissimo per loro però tuttavia io credo che o fai un film totalmente improntato su quel gusto su quel sapore su quel mood lì strizzando l'occhio a quel tipo di fan e appunto cambi il mood oppure fai un film come quello che sembrava essere nel trailer cioè il classico catastrofico non realistico ma quantomeno diciamo credibile cioè nonostante i film dimostri non è che possono essere realistici però devi essere capace di rendermi accettabile o plausibile una cosa che non sta nel cielo o nel terra e questa era l'impressione che si poteva avere guardando questo trailer bene, questo film si piazza praticamente in mezzo a queste due grandi famiglie proprio il discorso che faceva Yotobi sulla comicità su Fuga di cervelli che si piazzava proprio in mezzo tra un tipo di comicità e l'altro ecco, Godzilla si piazza assolutamente in mezzo tra le pretese di essere serio drammatico, catastrofico come i film moderni e invece di essere per i fan appassionati di tutti quegli stilemi che per quanto io li rispetti ma sono degli stilemi delle cose degli anni 50 che riportate così come sono o poco ci manca nel 2014 rischiano di sembrare un po' kitsch un po' camp mettiamola così, no? ecco, e questo è il discorso comunque sia poi vado nel dettaglio quali sono le due tipologie di fan che andrebbero a vedere questo film di Godzilla? credo che potrebbero appunto descriversi in due tronconi il primo troncone è quello più ovvio che vuole andare a vedere un film di Godzilla perché vuole vedere Godzilla il mostro enorme fatto in una CGI pazzesca che spacca il mondo ecco e poi ci sono un'altra tipologia di fan che di vedere l'ennesimo mostro in CGI non gliene frega assolutamente nulla che probabilmente il genere di film non gli interessa per niente ma che invece andavano perché erano curiosi di vedere come in una tipologia di film come questa potesse entrare il Bryan Cranston che tipo di apporto potesse dare Bryan Cranston che usciva da Breaking Bad a un tipo di film del genere io mi ricordo che quando finì Breaking Bad venne annunciato ah adesso Bryan Cranston è impegnato in Godzilla ho detto eh però appunto ero curioso e quindi io mi posso ritenere più un fan della seconda tipologia cioè della seconda tipologia cioè di quelli che andavano principalmente per vedere Bryan Cranston ecco avete cioè allora all'inizio del film tipo dopo dieci minuti del film la moglie di del personaggio interpretato da Bryan Cranston interpretata da Juliette Binoche insomma non dalla prima cazzara muore dopo dieci minuti circa e tu dici forse è stato un po' azzardato far morire un personaggio interpretato da Juliette Binoche dopo dieci minuti però ci posso ancora stare perché potrebbe essere la spinta emotiva eh per il personaggio di Bryan Cranston per fare per fare la sua parte insomma Bryan Cranston è capace di darci un'interpretazione emotiva proprio al cento per cento e quindi dicevi cazzarola probabilmente darà sfogo al Cranston che abbiamo amato in Breaking Bad al Walter White no che dici minchia adesso questo darà l'ha per per il protagonista di fare quello che deve fare ecco Bryan Cranston muore venti minuti dopo ma il personaggio di Bryan Cranston che nel trailer vi fanno passare come il protagonista muore venti minuti dopo lasciando tre quarti del peso del film a il figlio Aaron Taylor Johnson credo di averlo detto giusto non c'è nulla di male che muoia il personaggio di Bryan Cranston se non fosse che per tutti i trailer che sono girati ci hanno fatto credere che fosse praticamente il protagonista invece quando dicevo che è l'unico film che può essere riassumibile dal suo trailer intendevo proprio questo avete presente tutte le scene che si vedono nel trailer con Bryan Cranston sono le uniche scene di Bryan Cranston nel film l'unico apporto nel film forse c'è una scena in più rispetto a quelle che vedete nel trailer per il resto sono quelle non è stato aggiunto non c'è nulla di poco di più avete capito anche quella frase emblematica forte ben scandita che c'è nel trailer che ogni 3x2 è prima dei nostri video nella pubblicità prima dei nostri video quello che dice con non vi crede nessuno quando dite che era un incidente o cosa del genere o era una calamità naturale ecco quella frase lì ben scandita bene viene proprio buttata lì di fretta e furia con l'audio tappato perché da una parte del vetro quindi non la senti quasi insomma tutto quello che ha potuto fare Bryan Cranston per questo film è un ruolo di mezz'ora un ruolo di mezz'ora che allora gli dici vabbè ma cazzarola allora perché me l'hai venduto come 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 protagonista lì veramente ho capito Matioschi come si deve essere sentito per la storia del mandarino in Iron Man 3 cazzarola lì ti son vicino fratello e gli ho sempre contestato dicendogli vabbè ma alla fine il mandarino no minchia mi sarei incazzato e infatti mi sono incazzato tantissimo me ne volevo andare via no e questo diciamo è la prima il primo troncone di fan che è stato diluso allora c'è l'altro troncone quelli che volevano vedere Godzilla ecco Godzilla però non appare solo mezz'ora ragazzi ma vi pare un film di Godzilla che appare solo mezz'ora appare tre quarti d'ora circa e completamente anche di meno cioè in figura intera solo anche di meno e dobbiamo poi arrivare a come compare ma anche qui ci arriviamo dopo quando vi dicevo che questo film fa tutte le scelte sbagliate due le abbiamo viste far morire la Binoche e Brian Creston in dieci minuti non parlo neanche di buchi di sceneggiatura parlo proprio di scemenze scemenze cioè delle cose che ah partiamo dal fatto che appunto il vero cattivo non è Godzilla ma sono questi altri due mostri preistorici uno volante l'altro meno che devono fare il giro del mondo uno è messo da una parte del mondo l'altro nell'altro si devono accoppiare intanto fanno sfaceli lanciano anche loro impulsi MP si nutrono di radiazioni anche loro come Godzilla insomma tutta questa menata qua no cosa volevo dire ecco bellissimo appunto che già il nemico è un qualcuno che nel trailer non appare nel trailer pensi di aver capito che Godzilla in realtà è la calamità naturale di cui la gente deve aver timore di cui Ken Watanabe parla tra l'altro poi ci arriviamo a Ken Watanabe perché comunque sia e quella è una cosa poi ci sono tutta una serie di scelte che dici non sono vuoti di sceneggiatura sono sciocchezze per dirvi uno di appunto di questi due mostri è tenuto nascosto dagli Stati Uniti nel più grande e segreto deposito di scorie radiattive nucleari all'interno del deserto del Nevada sorvegliato alla grande e c'è appunto una scena in cui gli addetti alla sicurezza i soldati che devono controllare che le scorie siano tutte al loro posto soprattutto adesso che c'è stato l'allarme dei mostri fanno appunto la loro ispezione con tutti i loro parametri da soldati quindi mettersi così guardare entrare guardare lo spioncino e dire ok qua è tutto a posto chiudere qua è tutto a posto chiudere aprono tutte le varie porte sigillate dove ci sono tutte le scorie radioattive aprono ma c'è un fascio di luce oddio che cazzo è successo apriamo aprono e manca un'intera ala del deposito di scorie radioattive e se ne sono accorti guardando dallo spioncino allora io l'ho già scritto in un commento sotto un post di Matioschi spero che non capiti mai una calamità naturale a nessuno di voi perché sono cose veramente drammatiche nella tragica eventualità che succeda e che un terremoto o chi per esso porti via una stanza della vostra camera io spero con tutto il cuore che voi ve ne accorgiate prima di aprire la porta che vi venga vagamente un pensiero che forse gli hanno portato via una stanza della camera prima di aprire la porta e questa cazzata viene riproposta un'altra volta tipo i mostri passano da Las Vegas si distruggono tutto c'è la scena dei vigili del fuoco che cercano di aprire la porta di un lussuoso albergo a Las Vegas fanno casino entriamo entriamo sfondano tutto si guardano attorno stupiti tu guarda manca la stanza ma proprio così caduti dal pero cioè non se ne sono accorti prima questa è una sciocchezza un'altra sciocchezza potrebbe essere la sfiga che porta il protagonista vero a questo punto Aaron Taylor Johnson cioè per dirvi lui va col padre nella zona in cui c'è stato il disastro nucleare che ha portato via la madre che ha chiuso la centrale nucleare in Giappone e col padre accidentalmente appunto proprio il giorno stesso in cui si sono fatti vivi loro guarda il caso si risveglia il il mostro preistorico uno dei due muto mettiamola così si chiamano così uno volante l'altro no quello volante si risvegliano e dici vabbè sfiga vuole che era lì in quel momento porca puttana però adesso devo tornare dalla mia famiglia la mia famiglia però l'aereo fa scalo a Onolulu quindi dobbiamo fare scalo ad Onolulu indovinate dove va il mostro proprio ad Onolulu e guardate il caso quanto è piccolo il mondo non fai due passi che ti trovi un mostro volante enorme però appunto questa deve essere una casualità adesso devo tornare dalla mia famiglia che si trova nella baia di San Francisco e indovinate dove si vogliono incontrare due mostri proprio a San Francisco ma tu guarda anche qua il caso pensa se aveva un parente questo qua a Poggi Bonsi che cosa succedeva ci giocavamo Poggi Bonsi cioè capito sono delle sciocchezze che dici ma veramente siamo ai livelli dei film di Sharknado e dei film di del Siorio Tobi cioè delle cose stupidissime senza un senso e poi appunto c'è il discorso di Godzilla di della qualità delle 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 apparizioni che fa quando mi dicevo appunto delle scelte sbagliate un'altra cosa è appunto che se io so che a questo punto c'è Godzilla e che ci sono degli altri mostri che non mi aspettavo Godzilla e i suoi fantastici amici e dici vabbè allora voglio vedere che si menano e il regista tutte le volte che c'è per menarsi i due mostri chiude l'inquadratura e cambia totalmente e allora lì sei stronzo perché poi te la fa vedere nell'ultimo quarto d'ora finale di film e lei dici cazzarò io non ho pagato per l'ultimo quarto d'ora di film se tutte le volte che c'è la cosa figa del film me la tronchi per giocartela tutta nel quarto d'ora finale e allora sei stronzo e tu devi prendere atto che sei stronzo e c'è proprio una cosa assura per dirvi primo scontro tra il mostro e l'altro taglio di inquadratura si passa cambio di scena si passa alla soggettiva del bambino che guarda la notizia nel telegiornale dall'altra parte del mondo ma perché oppure l'altra volta che ne so si stanno per scontrare di nuovo i mostri sei in soggettiva sulla ragazza che se li sta vedendo guardare se li sta vedendo combattere si chiudono le porte del camioncino in cui le è trasportata anche lì tagliata per poi giocarsene tutte alla fine cazzarola ma veramente così male siamo messi e appunto poi c'è appunto il ruolo di Godzilla che appunto chi non come me non conosceva l'iconografia classica non immaginava fosse il supereroe del film invece il supereroe io pensavo che fosse la calamità di cui tutti avevano paura e invece il salvatore del film e quindi lo vediamo in scene nuotare placido come non mai con tutti i sortomarini che lo scortano lo guardano e lui indomito va tranquillo per la sua strada e fare il combattimento con i mostri per salvare l'umanità allora ho visto anche i vari personaggi cioè allora e qua proprio il film si trasforma in Power Ranger una puntata di Power Ranger quando c'è Megazord che combatte contro i come si chiama i vari mostri di Rita Repulsa perché cioè è una cosa bruttina allora parliamo dal character design io so che Godzilla ha una fisionomia ben riconoscibile ben definita però io voglio pensare che se tu fai un personaggio con delle movenze o comunque delle somiglianze al regno animale io credo che tu debba disegnare anche i suoi movimenti come un animale quindi ci sono tanti studi di come ad esempio che ne so l'attore che interpreta un determinato mostro cerchi di imitarne i movimenti di guardare come si muovono gli animali ecco Godzilla invece si muove come una persona con un costume di gomma piuma che interpreta Godzilla cioè veramente ok le braccia sono più sviluppate di quelle di un tirannosauro Rex già nel classico però c'è un momento in cui quasi fa catch con la persona veramente ci mancava che desse di box ed era a posto cioè non lo so c'è movenze animali proprio niente poi questa era per me una puttanata grande come una casa però mi hanno detto che fa parte del personaggio classico e dico ok però cazzo va bene il fuoco di punta in bianco durante il combattimento il fuoco atomico blu dal che sale da tutta la coda per poi sprigionarsi dalla bocca come se fosse una puntata di Dragon Ball cioè sembra non lo so quando Goku diventa scimmione riesce a lanciare palle di fuoco dalla bocca cioè una cosa che ripeto può star bene ai fan classici e tutto il rispetto però o facevi un film o facevi un altro se ti ficchi nel mezzo è proprio brutto c'è stato anche un momento in cui talmente abituato alle sciocchezzuole che vedevo che c'è una scena di uno dei due mostri che deve combattere Godzilla la madre che ha il ventre rosso luminescente perché sono le uova che deve andare a deporre io a un certo punto ho detto niente niente che adesso è come nei videogiochi quindi devi puntare alla parte rossa che è il punto devole del personaggio cioè veramente ho avuto questo timore e non mi ci sono neanche troppo allontanato per dire e appunto il combattimento si viene giocato tutto in un quarto d'ora molto appunto power rangeresco e alla fine Godzilla è l'eroe cioè un mostro che involontariamente quello che vuoi ha distrutto mezza San Francisco tra l'altro bellissimo il piano dei militari distruggere i mostri con una bomba nucleare ma non con la radiazione visto che loro si nutrono in radiazioni ma con l'onda d'urto che ne scaturirebbe nella baia di San Francisco puntualizzando più e più volte che è una bomba molto più potente di quella di Hiroshima e Nagasaki good job veramente ottimo ottimo lavoro esercito degli Stati Uniti poi vabbè e poi appunto il finale allora io posso capire che Godzilla faccia fuori i mostri ma da qui a definirlo l'eroe del film diciamo che che bello questo treno che passa sempre diciamo che non ne passa un pochettino e invece il film finisce con Godzilla creduto morto che si risveglia placido sembrava sembrava quel film lì Dragonheart può essere col drago amicone no la gente lo guarda tranquilla e speranzosa il TG fa la panoramica dall'elicottero con scritto Godzilla monster or savior come per dire uomo ragno eroe o minaccia più o meno siamo lì e placido come non mai andare nelle acque e si finisce il film mancava soltanto la gente che col fazzoletto ciao Godzilla grazie grazie di averci salvato torna presto veramente mancava solo questa cosa e avevamo finito avevamo fatto filotto ripeto capisco che ci siano degli stilemi ben precisi che Godzilla non sia un mostro risultore ma che nei film classici sia un salvatore però allora non mi fai quel tipo di trailer non mi fai quel tipo di film non puoi mettere quel film in mezzo io veramente è una cosa che mi chiedevo il perché io a un certo punto mi sono guardato quelle persone e ho detto ma che cazzo che caspita ho visto è un peccato è un peccato veramente grande cioè una roba proprio brutta brutta non so come dirlo cioè mi dispiace veramente sono grato a chi mi ha dato la possibilità di vederlo però è proprio brutto cioè vi basta il trailer vi basta veramente il trailer perché vi vedete tutto quello di Bryan Cranston vi vedete tre quarti di quello che fa Godzilla e niente cioè non mi è veramente non mi è veramente piaciuto e niente io concludo facendo due note al volo un plauso a Ken Watanabe che fa la parte di quello che dice la cosa saggia cioè professore cosa ne pensa? c'è sempre la prima volta ah ok dottore senta abbiamo bisogno qua per Godzilla e dagli di dacco dagli di punta quanto è buona la sola sutta ah ok grazie mille grazie mille questo è l'apporto di Ken Watanabe già superiore di gran lunga a quello dello sventurato Bryan Cranston complimenti anche per aver scelto come moglie del protagonista quella che di qui a un anno ne farà la sorella in un altro film mi rendo conto che sono studios diversi che uno non gliene frega niente dell'altro però con tutte le attrici porca misera proprio quella che farà Scarlet Witch la sorella di Quicksilver in Avenger 2 vabbè che dirvi è stata un'occasione veramente mancata cioè veramente mancata mi dispiace veramente tanto alla fine ho fatto solo tre minuti in meno del video che mi ero proposto di fare prima per adesso è tutto tante cari cose ciao gari ciao gari ciao gari ciao gari